Ciao a tutti fratelli, ecco la seconda parte del video precedente. Ho dovuto incominciare tutto il livello da capo, e ho perso un po' di vite. Capoccia amata. Adoro i bonus, per le vite e per la gnocca. Adesso i bonus sono facili. Adesso. E ciao Tavna, me ne dai un pezzetto? E a me la dai tutta. Magari un'altra volta, che c'è il portale aperto. Verso l'infinito e oltre... O senti, qua taglio, se volete la password, scrivetelo in un commento. Scusate se il video è un po' corto, ma questa parte l'infimo Movie Maker non me l'aveva caricata. Più veloce della luce... Che culo, niente casse in testa. Il livello è finito, ma prima di lasciarvi, voglio annunciarvi una cosa. Se riesco a scaricarmi un emulatore per la PS2, allora vi mostrerò il gameplay di un gioco decisamente epico. I creatori sono gli stessi di Crash Bandicoot, ma il gioco spacca molto di più. Credo proprio che vi piacerà. Da IoT è tutto, linea allo studio.